Agente immobiliare, quale futuro? Se ne è parlato durante il convegno organizzato da FIAIP Varese al Palace Hotel e dedicato alla riforma della professione. FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, opera in provincia da 40 anni, 40 anni di cambiamenti profondi che hanno inevitabilmente comportato un'evoluzione della professione. La federazione in questi anni ha attuato un'attività politico sindacale molto presente, molto costante a livello governativo e il collegio FIAIP di Varese da sempre a livello locale è un riferimento per tutti gli altri collegi. È un bellissimo momento perché quando si festeggiano i 40 anni vuol dire che grazie a tanti colleghi e colleghi che hanno dato tanto alla federazione si è arrivati a questo punto e quindi è un esempio per tutti quanti e per il nazionale veramente un onore essere qui oggi. L'attuale modello economico impone di offrire servizi personalizzati al cliente. Per tale ragione è nata l'agenzia multidisciplinare. Parleremo dell'agenzia multidisciplinare che cos'è di fatto? È quel luogo dove il cliente serenamente può cercare l'immobile per coronare il sogno della sua vita ma soprattutto può anche trovare un consulente del credito per esempio per identificare il prodotto migliore per le sue esigenze. Fondamentale in questo settore, aggiunge Mauro Temperelli, segretario generale della Camera di Commercio di Varese, è la rilevazione dei prezzi che consente di garantire assoluta trasparenza all'acquirente. La rilevazione dei prezzi è uno strumento di trasparenza che siamo riusciti a portare avanti in maniera unica e direi con continuità e questo è diventato ormai un elemento, una sorta di vangelo per chiunque operi nel settore immobiliare.